Ciao ragazzi ho fatto la scoperta del secolo, raga stavo registrando un video stamattina per farvi vedere lo spettrogramma del suono che emette quell'enorme nube che si trova a sud del laboratorio della latrina La famosa nube raga che sta arrivando sempre con la season 7 che ci porterà la neve Ok ragazzi ci sono dei leakers su twitter che hanno postato l'immagine di un eventuale iceberg Ok direttamente l'immagine dal codice programmato del game Ebbene si ragazzi mentre stavo svanettando con anche gli effetti videocamera qui nel replay raga ho visto l'iceberg dentro alla nube 10.000 likes raga per questa scoperta perché dovrei essere il primo a postarla direttamente dal game Ragazzi non ci perdiamo in chiacchiere, dove sta la nube? Eccola lì Allora io non posso ancora fare ovviamente la modalità drone libero Tra poco vi faccio vedere lo spettrogramma, attenzione, e anche un nuovo oggetto trovato ragazzi Sembra con la nube Raga questo video è veramente potente oggi Guardate, allora noi siamo qua adesso no? Noi siamo esattamente qua, mettiamo drone libero Ok Intanto ragazzi sentite E fin qua ci siamo Ora vi faccio vedere lo spettrogramma Ma prima, guardate bene raga cosa ho scoperto Allora, io sono qua no? Cambiamo L'esposizione automatica Ok, vedete? Ragazzi guardate Chiudi Ole Dovresti riuscire a vederlo Ragazzi lo vedete? C'è praticamente il contorno Di quello che dovrebbe essere Un iceberg Ragazzi perché lì si trova nell'acqua Un iceberg Tutto di ghiaccio Con la nube attorno E ragazzi Secondo me La spiegazione Di questo misterioso oggetto Si vede benissimo ragazzi Vi faccio anche il contorno Su photoshop Guardate Riaccendiamo intanto Un po' Ok Vedete raga Vedete? Mi sposto così Almeno riuscite a vedere Senza webcam Ecco Raga è palese È palese Guardate È palese Guardate Guardate un po' raga Ok L'apertura focale è importantissima Ecco Eccolo Raga guardate Avete visto? Olè Raga Ditemi se questo Non è un iceberg Lì Signori Nel mare Che si sta avvicinando Probabilmente ci sarà Una collisione a questo punto Andrà a scontrarsi Contro l'isola Proprio lì Nella parte in cui c'è Il laboratorio Della latrina Raga Missione compiuta Almeno Raga Poi sono un iceberg Ripperoni Comunque Raga Già che ci siamo Vi ricordate il simbolo che sta sul paracadute E sulla spalla destra Di Della skin Battuta di caccia Raga Guardate Sto parlando di questo simbolo Lo spettrogramma Direttamente da un utente Su Reddit Abbiamo questo Lo spettrogramma rappresenta Il simbolo Ragazzi Che vi ho appena fatto vedere Sulla spalla Della skin Del robot Che come sapete Sui piedi Ha anche un po' di ghiaccio No? Quindi Ancora più confermata La teoria della neve Con la season 7 Ditemi se Non è tanta roba Questa notizia Ci fermiamo qua Ragazzi Ci fermiamo qua Forse ne ho un'altra Ma la porterò in un altro video Ci vediamo Stasera live su Twitch Così ne parliamo anche insieme Link qua sotto Ragazzi Ci vediamo Ciao Ciao